la collezione primavera estate di cocca mi ha colpito molto perché appunto riesce a essere molto più urbana molto più chic quindi si avvicina moltissimo ai giovani e appunto ha fatto una bellissima collezione di jeans che appunto secondo me è la proprio appunto del brand nel senso che riesce attraverso i jeans a dare alle donne tantissimi stili diversi nonostante appunto sia un semplice pantalone però si può abbinare in mille modi diversi che vedrete poi sul mio blog. Tra gli outfit primavera estate di cocca il capo che più mi ha colpito e più mi è piaciuto a parte i jeans a fiori con stampe floreali e quelli appunto colorati con color pastello sicuramente mi ha colpito l'abito che indosso oggi perché richiama un po' l'estate e la primavera.